ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video allora questo è un video in realtà che non avevo programmato assolutamente perché stiamo attraversando un po un momento difficile che non mi va di condividere nel canale infatti ora la ricerca di qualche ricordo quando ho trovato questa lettera una lettera che adesso vi andrò a leggere che praticamente risale praticamente appena mi sono diplomata io ho cominciato a fare terapia con una psicologa perché praticamente ero rimasta troppo traumatizzata non so come dirlo per via diciamo dell'ambiente scolastico perché per chi non lo sapesse io ho sofferto tantissimo tantissimo per il bullismo tantissimo perché c'era qualche professore per fortuna per carità non tutti i professori quindi per fortuna c'era pure chi ci teneva veramente a me però c'erano certi professori che mi hanno fatto passare i guai e io non dimentico veramente e come stavo cercando appunto ricordi ricordi importanti per me ho trovato anche questa lettera che a rileggerla mi ha fatto uno strano effetto perché non mi ricordavo di averla scritta quindi adesso ve la leggo sta lettera risale al 6 settembre del 2015 allora in questi giorni mi sto preoccupando per l'inserimento nei vari corsi temo che posso essere maltrattata quando andavo alle superiori ho passato cinque anni di inferno per tutto quel tempo i miei compagni tranne due o tre soggetti si rivolgevano a me come se fossero arrabbiati per qualcosa in altre parole erano molto duri per fare solo uno dei tanti esempi una volta io stavo alla porta e una di loro se n'è uscita con tono molto aggressivo io vorrei sapere che ci puntini puntini sta facendo la porta un'altra volta invece io ci tenevo ad avere dei ricordi dei miei compagni e così ho preso il cellulare per fare delle foto e una di loro se n'è uscita dicendo ad alta voce non ci scattare le foto poi tutti hanno preso la macchinetta fotografica e si sono messi a scattare foto tra di loro un'altra volta ancora stavo guardando una mia compagna ma non in maniera eccessiva semplicemente seduta in una posizione dove gli occhi mi mandavano dritti su di lei e lei se n'è uscita dicendo ma perché mi fissa sarebbe stato diverso se questa frase l'avrebbe rivolta a me un'altra tra volte invece un mio compagno mi doveva ridare un libro libro di matematica ed è venuto in punta di piedi ha posato il libro sul banco e se ne è scappato quasi se avesse paura di me poi ci sono altre cose che non sto qui a raccontare non mi sentivo accettata anzi mi sentivo un mostro e peggio ancora i professori non facevano nulla non dico che uno doveva obbligare i miei vecchi compagni ad essere miei amici se loro non volevano però neanche affermare di continuo che loro mi volevano tanto bene una volta c'era una ragazza straniera nella nostra classe e i professori avevano tenuto un discorso dicendo che lei non si sentiva accettata avrebbero potuto fare la stessa cosa anche con me quando andavo a scuola mi avevano anche abbassato il voto di condotta cioè da 9 a 8 e ho notato che nel secondo quadrimestre dell'ultimo anno dove io avevo iniziato ad impegnarmi ad essere amica di tutti il voto mi è tornato a 9 adesso dico io possibile che uno deve fingere di essere amica di persone che la disprezzano per farsi alzare il voto di condotta io lo trovo una cosa squallida adesso temo che andando in questi posti possa essere trattata allo stesso modo se non addirittura peggio voglio prima sapere se ci va qualche mio vecchio compagno di classe e poi caso mai mi iscrivo dimenticavo di dire che tre di loro una mattina del primo anno hanno marinato la scuola per andare al centro commerciale a rubare e stavano per essere arrestate finché non hanno confessato un'altra volta invece avevano cosparso il banco di scolorine poi le hanno dato fuoco proprio mentre l'insegnante correggeva i compiti senza rendersi conto del pericolo quindi molto probabilmente se loro non si fossero comportati così con me i miei genitori non sarebbero mai stati d'accordo su queste amicizie allora io partirei dall'inizio ragazzi all'inizio praticamente sì sono successe quelle cose quelle quelle cose che vi ho detto forse me ne ho già parlato nel video precedente in cui vabbè non mi sentivo accettata e giustamente il fatto che c'erano i professori qua avevo scritto professori che affermavano che mi volevano tanto bene in realtà era una professoressa in particolare che non dirò sul canale perché non mi va certe cose no ma non ho tenute private per quanto riguarda i compagni erano i miei compagni di classe non di scuola quindi con i compagni diciamo che facevano altre classi ci andavo d'accordo poi è chiaro che andavo d'accordo anche con quei due tre soggetti che erano nella classe mia l'ultima parte che dice che praticamente una mattina del primo anno alcune compagne avevano maritanato la scuola e questo è vero è vero stavano per essere arrestate a 14 anni vanno a rubare in un centro commerciale vabbè poi vabbè l'ultimo anno hanno incendiato il banco la scolorina hanno fatto il fuoco mentre l'insegnante matematica correggeva i compiti quindi molto probabilmente se loro mi avessero portato rispetto i miei genitori non sarebbero mai stati d'accordo a farmi frequenta gente del genere questo posso confermare perché i miei me l'hanno sempre detto dice meno male che è andata così perché noi non saremmo stati felici che tu eri amica di quello di quell'altro ma che quindi vabbè ragazzi cioè volevo soltanto non so condividere questa cosa perché non so non so nemmeno io perché ho fatto questo video perché non lo so è una lettera che io mi non lo so mi sono sentita persa quando l'ho ritrovata scusate quindi vi lascio così ciao ragazzi grazie a tutti